Orientare le giovani generazioni nell'acquisire scelte consapevoli in campo economico sia come cittadini sia come utenti dei servizi finanziari è l'obiettivo del progetto formativo educazione finanziaria promosso dalla CISL Scuola e First CISL dei Laghi. È difficile trasmettere certi saperi a chi ha già un'età, a chi ha una struttura mentale, a chi magari ha una diffidenza. Il ragazzino è più propenso ad acquisire queste informazioni e quindi noi crediamo che è da lì che si debba partire. Il progetto, nato nel 2017, oggi coinvolge 13 scuole tra primarie, secondarie di primo e secondo grado, 44 classi e oltre 900 studenti. La docenza è garantita da formatori esperti del settore finanziario. Per l'anno scolastico 2019-2020 sono già 30 le classi di studenti che si sono prenotate per aderire all'iniziativa. I ragazzi devo dire che sono molto molto interessati. Noi usiamo anche una modalità formativa che usa le fiabe per esempio con i bambini, i video, c'è un'interazione continua. Facciamo anche delle attività ludiche con i bambini della scuola primaria. Qualcosa anche con la scuola secondaria di primo grado, con la scuola secondaria di secondo grado invece usiamo sia video che proprio le nostre professionalità. Il sindacato rivolge infine un appello a tutti i bancari o ex bancari che abbiano voglia di partecipare al progetto formativo. Siamo attualmente nove, due che lavorano ancora all'interno della Zandicato, sette che sono donne e uomini esodati. Però questo è un appello, chi vuole mettere a disposizione una parte del proprio tempo scrive a comovaresechiocciolafirstcisle.it First è il sindacato che rappresenta i bancari, gli assicurativi e le authorities. Basta che scrive e noi poi lo contatteremo. Quindi comovaresechiocciolafirstcisle.it Grazie. 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 Grazie.